Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo, più imponente, più vasto che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Grazie. 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 Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Quello che ti serve, quando ti serve. Come il piano Easy Smart a Canon E0, anziché a 3,90 euro al mese. Easy Bank. Semplicemente banca. Quello che ti serve, quando ti serve. Nasce Easy Bank. La nuova banca digitale di Intesa San Paolo. Easy Bank. Semplicemente banca. Il senso religioso, o l'esperienza religiosa, è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna. Anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Quello che ti serve, quando ti serve. Come il piano Easy Smart a Canon E0, anziché a 3,90 euro al mese. Easy Bank. Semplicemente banca. Quello che ti serve, quando ti serve. Nasce Easy Bank. La nuova banca digitale di Intesa San Paolo. Easy Bank. Semplicemente banca. , esistono ineggo. Sof셔서, perciò la domanda di Intesa San Paolo. Grazie. 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 La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Grazie. 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 Buonasera. Buonasera, benvenuti. Grazie. Grazie. Allora, gli algoritmi sono tra noi. L'impatto delle tecnologie, queste di nuova generazione, soprattutto quelle che nascono dopo quella che viene chiamata la rivoluzione digitale, ormai è vastissimo. Tocca tutti gli aspetti della vita, tocca tutti noi. Pensate soltanto oggi, quante volte ognuno di voi ha consultato il telefonino e non per telefonare, che è la cosa per cui teoricamente sarebbe fatto, ma per chiedere che strada fare per venire qui in fiera e parcheggiare, per entrare l'app che ognuno ha dovuto scaricare, il QR code da esibire all'ingresso. E poi prenotare questo incontro, e l'avete fatto, come potete vedere, in tantissimi. Ormai, quando ci muoviamo, quando leggiamo, quando scriviamo, quando compriamo qualche cosa, quando studiamo, insomma, quando dobbiamo cercare informazioni per pensare, per vivere, per decidere, in realtà stiamo chiedendo a dei sistemi in particolare, ma cercheremo di capire meglio cosa vuol dire questo termine, sistemi di intelligenza artificiale, stiamo chiedendo a dei sistemi di suggerirci qualcosa. Senza accorgercene, o meglio, adesso cominciamo ad accorgercene sempre più in maniera consapevole, ma senza accorgercene, stiamo vivendo forse una delle trasformazioni più travolgenti dai tempi degli antichi. Oggi, alla tecnologia, noi non chiediamo più di fare quello che avevamo precedentemente deciso, casomai di farlo in maniera più veloce, più efficiente, più forte. Oggi, alla tecnologia, chiediamo di decidere. E questo è un salto, è un passaggio. Non chiediamo più semplicemente di portare ad effetto qualcosa che avevamo pensato, ma chiediamo cosa pensare, cosa pensare di qualcosa. Voi provate a immaginare, se qualcuno oggi o ieri avesse voluto chiedere cosa sta succedendo al meeting, la cosa più semplice è andare su Google, mettere meeting di Rimini, novità. Ecco, in quel momento nella rete ci sono migliaia e migliaia di informazioni su quello che sta succedendo qui. Chi è che decide la prima che vi compare sul telefonino? Chi è che decide le prime due o tre, che poi sono quelle che poi, in fin dei conti, riusciamo a guardare? È difficile che quando, no, nella risposta di Google c'è scritto, poi ce ne sono altre duemila, uno va a vedere la duemillesima, uno di solito guarda le prime due o tre pagine. Chi è che sceglie? Chi è che ha scelto quelle informazioni? Chi è che ha preso la decisione tra mille e mille notizie, dati che potremmo avere di scegliere quelli? Ecco, per questo si comincia a capire l'idea del potere degli algoritmi, perché evidentemente, soprattutto quando chiediamo agli algoritmi di decidere, quindi quando chiediamo a questi sistemi di prendere decisioni intelligenti, evidentemente c'è un atto di affidamento. Ci fidiamo. Decidiamo quanto meno di fidarci. Ora, è indubbio che questo sistema, questo sviluppo tecnico così forte, sta generando una certa ansia, una certa preoccupazione. È indubbio che se noi spostiamo la nostra capacità di decidere, ovviamente stiamo dando gran parte della nostra libertà. Stiamo affidando a qualcun altro o a qualcos'altro le preferenze della nostra vita. Quindi si è cominciata a creare questa preoccupazione, quest'ansia. Sicuramente i film sono, nella cultura popolare, forse la cosa che l'ha aumentata di più, quest'ansia. Se voi prendete i vari, a partire da Blade Runner, forse il padre di tutto questo, ma poi Terminator, Robocop, Matrix, Transformers, sono tutte macchine un po' cattive, anzi molto cattive. E allora viene da chiedersi, ma perché hanno così tanta fortuna? Come mai, nonostante questa preoccupazione, noi continuiamo in maniera così massiccia a usare, a fidarci? Allora, direi due motivi mi sembrano obiettivi. Il primo, perché questa tecnologia ha consentito di fare delle cose importantissime, ci consente di fare cose obiettivamente utili. Pensiamo a tutto il periodo della pandemia, se noi non avessimo avuto una tecnologia digitale, moltissime delle cose che la pandemia aveva bloccato non le avremmo potute fare. Dunque, da un lato perché obiettivamente questa tecnologia rappresenta un passo in avanti. In secondo luogo, la forza di queste tecniche, di questi sistemi, di queste tecnologie, è una forza pratica. Ci fanno risparmiare tempo, ci fanno risparmiare pensieri, ci fanno risparmiare fatica. Si impongono perché ci rendono più semplici, almeno, sembra, ci rendono più semplice la vita. Così facendo, è come se la conquistino questa fiducia. Ma penso, e così vengo all'incontro, ma penso che ci sia una terza sfida, forse la più interessante, che questo contesto e questo scenario in cui viviamo, sempre più densamente popolato di macchine e di sistemi, ci pone. E proverei a sintetizzarlo così. Per la prima volta nella storia, noi abbiamo davanti delle macchine o dei sistemi tecnici che pretendono di fare bene, anzi forse anche meglio, cose che prima facevano gli umani, che facevano gli esseri umani. Per questo, questa evoluzione, questa situazione, è come se stesse facendo emergere una domanda. Ma cosa c'è di propriamente umano? Cioè c'è qualcosa dell'umano che non è replicabile da una macchina? Che non è automatizzabile? La vera sfida, la vera domanda che comincia a introdursi sempre di più è ma c'è qualcosa che pertiene, che è proprio dell'umanità? E che queste macchine, paradossalmente, crescendo e allargando la loro sfera di azione, ci costringono a porre come domanda? Allora, capite, sono domande da brivido, sono domande pesanti, sono domande importanti, e per questo occorrevano per affrontarle ospiti all'altezza di domande così importanti, e quindi ospiti eccezionali. Come sono i due ospiti che ringrazio profondamente per aver accettato di tornare al meeting, perché sono amici del meeting? Comincio alla mia sinistra, padre Paolo Benanti, che è sicuramente padre Paolo Francescano, e non c'era bisogno di dirlo perché si vede abbastanza, teologo, professore all'Università Gregoriana, ma sicuramente è una delle persone e delle personalità, diciamo, degli intellettuali più importanti, più autorevoli su questo tema, è membro della Task Force sull'intelligenza artificiale dell'Agenzia Italiana dell'Italia Digitale, ma è membro del Consiglio d'Europa, sta scrivendo nuove regole sull'intelligenza artificiale, non finirei in tempi rapidi di elencare, ma la cosa che mi preme più dire è che è veramente una delle persone che più conosce questo tema e che è anche più intelligente e capace di comunicare su questo, per questo lo ringrazio particolarmente per aver accettato il nostro invito. E alla mia destra il professor Nello Cristianini. Il professor Cristianini, anche lui è un ritorno al meeting, è già stato con noi, italiano, goriziano e triestino di formazione universitaria, ma insegna, vive in Inghilterra, adesso a Bath, dove ha insegnato anche a Bristol. Nello è sicuramente uno dei più importanti esperti, professori proprio di artificial intelligence, quindi fisico di estrazione, ma poi da sempre, diciamo, a contatto della ricerca su questi temi. Di recente è pubblicato un libro che si chiama La scorciatoia, che è proprio un condensato di questa riflessione sulla diffusione di queste macchine dentro il contesto sociale. Allora, con loro due noi vorremmo provare a districarci in questo tema che però è così importante. Il primo round di domande che ho pensato con loro è proprio partire un po' dall'inizio, il fenomeno. Cioè, quando noi parliamo di intelligenza artificiale, quando noi parliamo di questi sistemi tecnologici, quando noi descriviamo l'impatto che hanno, esattamente di cosa stiamo parlando, qual è l'origine di questi fenomeni, qual è il tipo di diffusione che in questo momento stanno avendo, qual è la vostra valutazione di questo fenomeno. Padre Paolo. Bene, grazie anche di questa presentazione che forse non merito e grazie anche per questa occasione di rincontrarvi al meeting. Parlare di intelligenza artificiale significa parlare innanzitutto di una storia che ha inizio in un seminario poco frequentato negli anni Sessanta negli Stati Uniti in cui ci si era reso conto che una nuova caratteristica della realtà, non era la materia, non era l'energia, ma l'informazione, ecco, poteva darci un nuovo modo per controllare le macchine. E c'era il padre dell'informazione, Shannon, che aveva realizzato a scopo dimostrativo un piccolo topolino a cui aveva dato un nome mitologico, Teseo, meccanico, che sbattendo lungo le pareti di un labirinto tutto cablato, ogni volta che urtava una parete cambiava direzione e urto dopo urto trovava l'uscita dal labirinto. Ecco, era la prima volta che utilizzando questa nuova categoria concettuale, che era la categoria dell'informazione, una macchina non surrogava semplicemente il muscolo umano, ma mostrava una caratteristica, la capacità di perseguire un fine, che di fatto è una caratteristica che attribuiamo ad alcune diverse forme di intelligenza. il cane che viene a stimolarci o trova il modo per avere la pappa all'interno di casa lo pensiamo o lo chiamiamo intelligente. Ecco, solo che questo modo di utilizzare l'informazione per controllare la macchina, perché ogni urto si chiudeva a un interruttore e quindi la macchina cambiava comportamento, doveva, secondo alcuni, chiamarsi cibernetica. Però, sapete, un mio professore una volta mi disse la vita universitaria è il paradiso, l'inferno sono i tuoi colleghi. Perché? Perché purtroppo il propulsore di questo termine della cibernetica aveva un collega che era McCarty a cui non andava assolutamente a genio. E McCarty era disposto a chiamare questa nuova branca della disciplina in qualsiasi maniera, anche intelligenza artificiale, che non gli piaceva, pur di non dar ragione a Wiener che proponeva cibernetica. Ed è così che da più o meno metà degli anni Sessanta, con un nome che nessuno ha voluto, ma che era meglio delle altre disponibili, abbiamo iniziato a descrivere un nuovo tipo di macchina che, dato un fine, trova dei mezzi per realizzare questo fine. Ora, io non voglio prendere il posto del professor Cristianini, che da un punto di vista tecnico sugli algoritmi ne sa molto più di me, ma vorrei con voi fare un po' quello che è il mio mestiere, il mestiere dell'eticista, cioè scuotere un po' questa realtà per far vedere quali sono i punti a cui porre un attimo attenzione. Perché una macchina che è un fine trova lei i mezzi, ma già capite che il fine non giustifica i mezzi. E quindi, già qui si apre un grandissimo problema su quali mezzi siano i mezzi adeguati per raggiungere quel tipo di fine. Ma la cosa si fa ancora più interessante, se volessimo citare Wittestein, il filosofo, perché Wittestein ci dice ecco, i confini del mio mondo sono i confini del mio linguaggio, delle mie parole. Per la prima volta ci siamo dovuti trovati di fronte al fatto di dover utilizzare un termine che applicavamo principalmente agli umani e con qualche riduzione a qualche animale per descrivere una macchina che avevamo costruito. Ci mancano le parole e questa è parte del problema che abbiamo visto nell'introduzione per descrivere la differenza tra qualcosa che funziona la macchina e qualcuno che esiste me e voi. Ecco, non pretendo nel poco tempo che ho di dare una risposta a una cosa che di fatto ancora non abbiamo risolto del tutto. Però mi chiedo se noi possiamo a questo punto prendere qualcosa dalla traduzione di pensiero che abbiamo come occidentali per cercare di descrivere questa differenza, per provare a rispondere che cos'è questa forma di intelligenza non animale e non umana. Ecco, per fare questo io andrei sui classici e rileggendo Ulisse, rileggendolo di séa, l'astuto Ulisse in greco in realtà è un detto con un termine che nel greco serviva a indicare, nel greco classico serviva a indicare una forma di intelligenza diversa da un'altra forma di intelligenza. Il greco conosce il nus come quella forma di intelligenza che capisce e poi conosce il metis, la metis, quella forma di intelligenza che trova le soluzioni. Ecco, l'intelligenza artificiale, se dovessimo ricomporre questa odissea dell'intelligenza artificiale, è un metis, una forma di praticità che trova una soluzione che non ha un corrispondente che la distingue da un'altra forma di intelligenza nelle lingue contemporanee e che ci stupisce perché trova per noi delle cose che ci costano normalmente un po' di fatica cognitiva. Ma a questo punto c'è un'altra questione da fare perché quando diciamo intelligenza artificiale secondo me non è neanche così appropriato definirla al singolare. Perché? Perché sono tutte macchine che dentro di loro hanno una qualche scheggia, una qualche particolarità di alcune delle forme che caratterizzano l'intelligenza umana. E quindi forse la cosa migliore e più corretta da un punto di vista anche umanistico sarebbe definirla al plurale le intelligenze artificiali. Perché quella macchina che fa quella cosa in una maniera che sembra simile all'intelligenza è diversa da quell'altra non hanno la stessa forma di intelligenza ma fanno compiti differenti. E allora le intelligenze artificiali sono una grande famiglia di strumenti più o meno efficienti più o meno potenti più o meno energivori e di questo se ne parla anche troppo poco che ci consentono di trovare dei mezzi per risolvere dei problemi. Questo significa che un'intelligenza artificiale è utile solo se abbiamo davanti a noi un'ermeneutica della realtà in cui la realtà è un problema da risolvere. Una domanda esistenziale non è un problema da risolvere è una qualità di esperienza da vivere e quindi è molto umano e poco artificiale. Detto questo però vorrei chiudere questa breve introduzione su una cosa su cui si potrebbe parlare all'infinito soffermandomi su quell'ultima frontiera delle intelligenze artificiali che più o meno ha guadagnato l'onore delle cronache negli ultimi 7-8 mesi questi che vengono chiamati grandi modelli linguistici forse più conosciuti con il nome di una delle applicazioni chat GPT ecco con questa ultima frontiera di intelligenze artificiali la macchina dovrebbe indicare qual è la prossima parola in una frase poi però l'abbiamo fatta così potente che indovina non solo la prossima parola ma tutto il periodo tutto il paragrafo anche tutta la pagina e anche qualcosa di più ecco queste intelligenze artificiali si interfacciano con una parte della persona la cognizione che va guardata con molta cura perché perché fin da bambini sappiamo che chi ci racconta le storie chi ci racconta le fiabbe ci dà una certa prospettiva sul mondo ecco vorrei concludere così cosa sono le intelligenze artificiali sono delle grandi interfacce verso la realtà che ci danno una prospettiva per risolvere quel problema che abbiamo davanti e mediano parte della comprensione di quello che abbiamo davanti non sono così differenti da quella lente convessa che nel sedicesimo secolo ci ha permesso di fare il telescopio e il microscopio con il quale abbiamo guardato il cielo e abbiamo capito una cosa diversa con il quale abbiamo guardato le infinità del nostro corpo e ci siamo capiti come fatti di cellule e allora la sfida non è nella macchina in sé ma in quello della macchina che la macchina oggi ci invita a capire della realtà e di noi stessi insomma il problema è ancora l'uomo e non la macchina grazie Paolo intelligenza intelligenze dal di dentro come giustamente diceva di questo lavoro come definiresti queste nuove tecnologie sì grazie io cerco sempre di semplificare le cose per aiutare la comprensione perché il problema è complesso però possiamo immaginare questo intanto si può cercare di definire in modo più pratico cos'è l'intelligenza guardando alla biologia tutti i casi di intelligenza noti a noi fino a pochi anni fa erano biologici animali ecco si parte da lì e l'intelligenza esiste su questo pianeta da ben prima degli esseri umani senza alcun dubbio e quindi è naturale è prima del linguaggio prima dell'autocoscienza e quindi è importante non mescolare questi livelli se esisteva prima vuol dire che non ha bisogno di linguaggio e di autocoscienza l'intelligenza si trovava negli animali primordiali degli oceani preistorici i predatori le prede c'era addirittura cooperazione o competizione l'intelligenza è sempre stata non sempre ma quasi sempre è stata con noi ed è una abilità si può ottenere in modi completamente diversi non c'è uno specifico tratto che sia l'intelligenza è un'abilità la capacità di adattarsi di imparare di prendere decisioni in situazioni nuove un animale in un ambiente nuovo mai visto prima non può avere memorizzato il comportamento adeguato deve calcolarlo magari ragionandoci o in altro modo è lì che entra l'intelligenza e ancora oggi quando si gioca a scacchi con un computer la configurazione della scacchiera potrebbe essere mai vista prima la macchina deve comprenderla ragionarci decidere in questa prospettiva qui evitiamo di farci confondere dalle bellissime complessità della nostra intelligenza che è così tanto diversa ma unica e ci concentriamo su quello che è fondamentale insomma l'intelligenza serve più alla gallina per attraversare la strada senza farsi colpire dalla macchina che non a Shakespeare per scrivere un poema quel tipo di intelligenza lì la capacità di agire in modo sensato in condizioni mai viste non è nemmeno esclusiva degli animali le macchine ce l'hanno già abbiamo fatto delle macchine che sono in grado di decidere in autonomia imparando ragionando pianificando e le usiamo da prima di GPT le abbiamo nel telefono in tasca da almeno 10-15 anni quando apriamo youtube la mattina e guardiamo un video che la macchina ci propone l'algoritmo deve prendere decisioni su un miliardo di video possibili ne prende uno come fa? chi si installa l'applicazione di TikTok una volta installata TikTok uno si fa l'account questo è un algoritmo nuovo non conosce nessuno non ha mai visto questo utente nel giro di pochi minuti fa un po' di esperimenti cerca di capire cosa mi interessa e poi si specializza sempre di più nei giorni e ottiene il suo obiettivo di farmi passare il tempo guardandolo Amazon mi raccomanda i libri YouTube mi raccomanda i video e avanti così sono macchine intelligenti la questione è non hanno l'intelligenza di tipo umano come hanno fatto a funzionare come fanno come le costruiamo questa è una storia importante perché abbiamo menzionato il workshop degli anni 50 e John McCarthy che ha dato il nome al nostro campo di ricerca l'intelligenza artificiale quello che abbiamo fatto adesso quello di cui parliamo oggi avrebbe stupito completamente John McCarthy in quegli anni perché si aspettava lui un futuro interamente diverso io ho avuto la fortuna di conoscere John McCarthy e di parlare di come ha scelto quel nome ed è una storia incredibile ma adesso non c'è tempo comunque lui ha dato il nome a questo campo e ha dato anche le idee fondamentali all'inizio negli anni 50 e le idee sono sempre quelle usare metodi di logica di ragionamento esplicito di grammatica per comprendere il linguaggio la visione il comportamento si è seguito quella strada lì per moltissimi anni abbiamo investito un sacco di soldi nel comprendere a fondo cos'è il linguaggio sperando di fare una macchina che potesse tradurre senza risultati e questo è uguale anche in altri campi fino a quando abbiamo rinunciato e ci siamo detti cerchiamo di modellare il linguaggio alla meno peggio almeno statisticamente in quel momento lì abbiamo rinunciato a comprendere l'essenza del linguaggio umano e ci siamo accontentati di fare delle previsioni alla meno peggio un modello statistico può predire la parola mancante abbastanza bene dato il contesto e quell'approccio l'abbiamo usato in altri campi e ha funzionato sempre di più predire il libro predire il video ed è quello che chiamiamo la prima scorciatoia fare uso della statistica invece che della comprensione logica del fenomeno e questo ha creato il problema di trovare altri dati i dati per addestrare la macchina queste macchine hanno fame di dati vogliono molti dati per trovare queste relazioni statistiche e invece che produrli a mano in modo diretto mirato abbiamo deciso di raccoglierli dall'internet e questa è la seconda scorciatoia raccogliamo i dati da internet per addestrare macchine che così non devono capire a fondo il fenomeno e poi c'era il problema di capire cosa vuole l'utente che video vuole guardare l'utente e invece di chiederglielo che è complesso abbiamo deciso di osservare l'utente costantemente registrando tutte le sue decisioni e questa è la terza scorciatoia mettendo insieme la prima e la seconda e la terza la statistica i dati trovati online e la osservazione dell'utente abbiamo tre componenti che formano la ricetta che è oggi alla base di tutto quello che stiamo usando da Amazon a YouTube a Facebook fino a GPT fino a Google Translation traduzione ecco è chiaro che a questo punto abbiamo anche risolto dei problemi e creato degli altri problemi la macchina non rappresenta il mondo in un modo simile al nostro è profondamente diversa da noi comprende molte cose ma in un modo diverso dal nostro io non posso dire a YouTube attenzione che raccomandando quel video a un minorenne rischi di polarizzarlo radicalizzarlo incoraggiare abitudini che non andrebbero incoraggiate la macchina non può comprenderlo quasi ogni problema che stiamo osservando adesso con questa tecnologia nasce da queste tre scorciatoie e non sarà facile risolverlo perché non abbiamo un'altra tecnologia abbiamo questa abbiamo il metodo statistico che risolve problemi e ne crea degli altri ma attenzione queste macchine comprendono a modo loro il mondo GPT è una forma di intelligenza e ha una forma di comprensione nel senso che abbiamo detto all'inizio quello degli animali semplici alieni non umani non sarà facile comprenderci con questi meccanismi perché non pensano come noi eppure abbiamo il bisogno adesso di trovare il modo di coesistere con loro in modo sicuro e questo è il progetto su cui si lavora adesso in questo momento qui grazie guardate che riuscire a condensare in otto minuti attesta la complessità di questo di problemi così è veramente eccezionale e l'hanno dimostrato dunque come dire un conto è risolvere un problema un conto è il tipo di intelligenza che artificialmente possiamo produrre un conto è l'intelligenza umana il knows è la conoscenza diversa dalla capacità di risolvere quindi un primo punto l'abbiamo messo lì stiamo parlando di cose diverse ma allora perché questa paura se in fin dei conti queste macchine sono buoni strumenti per risolvere questioni Paolo dove nasce cioè che come mai c'è questo rischio di un impatto più generale sulla stessa antropologia sul modo di conoscere sulla capacità cognitiva ti volevo un po' chiedere cioè quali sono i rischi che ci sono e quali sono gli aspetti positivi questa è un'altra impresa da sintetizzare ma saranno tre imprese vi assicuro no va bene diciamo che il passaggio le tre scorciatoie come abbiamo sentito ci hanno donato una macchina che non solo è in grado di scegliere i mezzi per arrivare a un obiettivo a un fine ma ci hanno dato una macchina che in qualche misura ha un grande potere che è il potere di predire qualcosa che ancora non è successo se noi sulla stazione spaziale orbitale raccogliamo tutti i dati che vengono da tutti i sensori di tutte le parti mobili possiamo vedere che in alcuni momenti potremmo trovare dei dati che si discostano dalla normalità per esempio quando un compressore dell'aria inizia a rompere un cuscinetto inizia a vibrare un po' di più ecco la macchina in questa sua ricerca disperata di regolarità in questa sua ossessione per la regolarità è in grado di riconoscere questa anomalia e segnalare quest'anomalia o ancora di più di trasformare questa anomalia in una predizione di rottura di quel componente e quindi magari potremmo sviluppare un sistema che ci riesce a dire in base all'anomalia delle vibrazioni di quell'asse che tra 5 ore 22 minuti e 35 secondi quel compressore si rompe capite in una situazione critica come stare nello spazio e poter riparare un sistema vitale di bordo prima che si rompa questo diventa un potere enorme non devo aspettare che si rompe qualcosa che si accende la spia del guasto ma posso intervenire prima però questo potere di predizione di questo tipo di macchine funziona bene su quel tipo di dato che viene prodotto da un sistema meccanico in cui i gradi di libertà sono stati decisi a tavolino da un ingegnere per cui quello ha pochi gradi di libertà ha quella capacità di rotazione e poca altro ma se iniziamo a utilizzare gli stessi sistemi le stesse scorciatoie su dati prodotti da un sistema strano basato sulla chimica del carbonio me e voi ecco noi abbiamo un brutto difetto ingegneristicamente che chiameremmo la libertà e questo nostro avere un po' più di gradi di libertà fa sì che la macchina che interagisce con l'essere umano non solo in alcuni casi predisce quello che facciamo ma sembra da una serie di studi in grado anche di produrre parte del nostro comportamento chi se ne è accorto prima è stato il marketing per cui quell'annuncio forse ti interessa anche nella piattaforma dove hai comprato l'ultimo libro non solo ha predetto il libro che ti interessa ma prodotto almeno un 10-15% di vendita in più e allora capite che avere uno strumento che predice e produce dei comportamenti è utilissimo ma può essere anche pericolosissimo ma questa guardate non è un problema di questa frontiera tecnologica perché quando come specie umana 70.000 anni fa pensiamo 70.000 anni fa in una caverna per la prima volta abbiamo preso in mano una clava era un utensile per aprire più noci di cocco o un'arma per aprire più crani di altri sapiens ecco il fatto che tutto questo possa essere usato nel bene e nel male è il problema etico che c'è da sempre è quella cosa che Solzginitzin in Arcipelago Gulag diceva lentamente compresi che la linea sottile che separa il bene dal male passa dritta al centro del cuore di ciascuno di noi non è un problema della macchina non è un problema del potere degli algoritmi fatemi giocare un po' col titolo di questa nostra chiacchierata ma è un problema del potere dietro gli algoritmi cioè di come tutto questo diventa società di come tutto questo diventa sistema organizzato questa è l'etica della tecnologia quando nell'ottanta London Winner ha lanciato questo modo di mettere sotto una critica sociale la tecnologia lo ha fatto con un esempio se voi andate a New York a Manhattan ecco potreste vedere una bella autostrada a sei corsie che unisce Manhattan con Long Island quelle e tante altre opere pubbliche sono state fatte da Richard Moses un famoso politico new yorkese ecco andandoci noi così a vedere quella strada probabilmente vedremo quello che vediamo tutti quando percorriamo la 1 calcestruzzo e asfalto ma se andiamo a leggere la vita di Moses un libro così importante di oltre mille pagine che ha vinto un Pulitzer e che tra i migliori cento libri di non narrativa del mercato americano scopriremo che Moses aveva delle idee oggi forse non più accettabili ma all'epoca molto chiare per cui la parte migliore della città doveva essere per le persone migliori e per lui Johnson Beach la spiaggia più bella di New York doveva essere per la parte migliore della società la classe media bianca e allora cosa fa? beh non costruisce nessun treno per andare a Johnson Beach e quei ponti in calcestruzzo sono due piedi 66 centimetri più bassi dello standard nessun autobus riesce a passare solo chi possedeva una macchina poteva andare al mare ecco ogni artefatto tecnologico nella sua iniezione sociale nel suo entrare all'interno di una società funziona come uno strumento d'ordine e come un dispositivo di potere e allora la domanda che ci dobbiamo fare per rispondere a quali sono le potenzialità e quali sono i pericoli è esattamente questo è mettere sotto il microscopio questa tecnologia e chiederci che forma d'ordine che strumento di potere è all'interno delle nostre relazioni sociali dopo il covid questo è abbastanza facile da capire non è più questione solo di calcestruzzo e cemento armato ma un diritto costituzionale il diritto alla salute è stato ordinato tra noi secondo un criterio nascosto dietro agli algoritmi del portale della sanità regionale e allora gli algoritmi oggi sono le autostrade di Moses l'etica delle tecnologie non dice se la tecnologia è buona o cattiva ma aiuta a leggere quell'uso in quella circostanza con quei fini e a chiedersi e a chiedere a tutti i portatori di interesse cioè a tutta la società civile se questo uso afferma confonde o nega altre forme di diritto che abbiamo detto essere alla chiave e al cuore della nostra società ecco facciamo due esempi rapidi come questa predizione oppure produzione di comportamento potrebbe essere usata a fin di bene sapete l'età media in Italia dalla seconda guerra mondiale si è alzata fino a 83 anni di attesa di vita una recente indagine statistica ha detto che gli italiani considerano la vecchiaia iniziare a 84 cioè diventiamo vecchi dopo morti però al di là di questa cosa qua noi arriviamo a 84 anni grazie anche al fatto che più o meno da 55 60 anni noi siamo in cura con almeno 2-3 farmaci la cronicità di alcune patologie che abbiamo ci dà una qualità di vita che dipende tantissimo da quanto noi aderiamo alla terapia e che cosa succede che se tu hai una malattia cronica e non prendi il farmaco perché ti dimentichi non sai o non fai la malattia va in fase accusa vai al pronto soccorso il pronto soccorso è intasato ti tengono là poi ti rimandano a casa la qualità della tua vita peggiora la tua salute peggiora la qualità della sanità pubblica peggiora pensate a poter usare questi strumenti per far sì che ciascuno di noi aderisca alla terapia ecco che sarebbe uno strumento ottimo per portare del bene certo qualcuno lo potrebbe fare invece per orientare la nostra opinione pubblica immaginate che cosa questo significhi e allora eccoci qua di nuovo tra bene e male e purtroppo spetta a noi grazie Paolo tenello una delle cose che mi ha sempre colpito di quello che scrivi è che pur essendo profondamente dentro lo sviluppo l'esame la capacità di ricercare in questi settori hai sempre molto presente questo problema delle ricadute cioè dell'impatto che possono avere positivamente e negativamente tu come vedi questo tema sì io credo che sia importante considerare che non è facile separare la tecnologia che rende questo possibile dall'uso che ne facciamo concettualmente c'è la tecnologia e c'è l'uso ma abbiamo detto per esempio che la macchina ha bisogno costante di dati e per prenderli deve collegarsi con noi osservarci ecco vedete e viceversa il web che abbiamo creato sarebbe non utilizzabile se non ci fossero degli algoritmi intelligenti che ci consentono di trovare i contenuti immaginate una biblioteca enorme senza un catalogo chi trova un libro io non trovo neanche il mio libro nel Feltrinelli non è facile se non c'è un catalogo e quindi YouTube che ha miliardi di video sarebbe inutile senza un algoritmo che raccomanda bene questo punto è piuttosto importante abbiamo creato quelle macchine intelligenti come abbiamo detto prima che sono in grado di capire e prevedere le nostre azioni e le abbiamo subito messe al centro di questa infrastruttura digitale da cui dipendiamo così tanto in una posizione di grande controllo ecco il potere che diceva Paolo il potere c'è perché la posizione è quella la macchina è nella posizione di decidere quali email verranno mostrati a me e quali email verranno cancellati quali notizie quali notizie leggo quali video guardo è una posizione di potere abbiamo delegato delle decisioni alla macchina che noi non possiamo più prendere le prende la macchina per noi e abbiamo messo l'algoritmo lì prima ancora di capire bene l'effetto che avrà collettivamente ma il punto è che essendo lì può osservare nutrirsi di dati e influenzare il comportamento e quella posizione è importante determina dipende dalla tecnologia che abbiamo creato ma determina i rischi il rischio non è fare un algoritmo nel vuoto sulla luna che sta lì quello non fa male a nessuno l'abbiamo messo in un posto in cui può decidere chi prende un mutuo chi non lo prende chi legge il giornale chi non lo legge questo è controllo è un po' l'esempio del ponte troppo basso per l'autobus io vi chiedo se quel signore che ha fatto il ponte ovvio che l'ha fatto apposta mi pare di capire l'obiettivo loro era di selezionare chi passa ma se l'avessero fatto senza intenzione sarebbe comunque lo stesso uguale l'intenzione conta fino a un certo punto si dice nelle teorie dei sistemi lo scopo di un sistema è quello che fa se il ponte è basso il sistema dei trasporti di quella città ha lo scopo di filtrare le persone anche se poi l'intento non c'era si può descrivere così la infrastruttura che abbiamo creato che si voglia o no determina certe decisioni chi vede quali film e siccome è costruita ha lo scopo di indurre le persone a cliccare ecco che allora cerca in tutti i modi di osservare gli utenti sfruttarne le abitudini comprendere le abitudini e usarle per farle cliccare se poi questo ha effetti collaterali come quello del ponte è possibile è probabile solo che non li conosciamo ancora bene nel libro li chiamo effetti secondari effetti del secondo ordine il primo effetto primario è aumentare il numero di utenti e di clic questo è misurabilissimo è ottenuto e si conosce la macchina ottiene l'obiettivo primario bene è costruita per quello secondariamente però cominciamo a sospettare che ci siano problemi di benessere emotivo negli utenti nei ragazzini giovani problemi di immagine di se stessi problemi di polarizzazione politica di radicalizzazione politica persuasione nel marketing anche politico persuasione è una cosa importante perché va a toccare la nostra autonomia vedete è un fatto di guardare la stessa cosa da due angoli diversi quando io clicco rivelo alla macchina i miei interessi e la macchina fa il possibile per darmi altri contenuti che mi faranno cliccare che quindi io approverò ma si può anche vedere diversamente quando io clicco rivelo alla macchina le mie debolezze e la macchina le sfrutterà contro di me per indurmi a cliccare ancora è la stessa cosa basta guardarla in modi diversi ecco servire e manipolare non sono cose diverse quando la macchina mi fa cliccare dieci volte mi ha manipolato o mi ha servito siamo in questo momento qui abbiamo delegato il controllo alla macchina stiamo osservando degli effetti su di noi socialmente e non abbiamo ancora gli strumenti culturali per comprendere questo a fondo e questa è forse l'emergenza di questo momento fare delle leggi prima ancora di avere una comprensione completa del fenomeno e le stiamo facendo meglio che possiamo ora ci sarà un'elezione il prossimo anno in Europa una in America e una forse in Inghilterra e in questo nuovo sistema si è aggiunto sopra di questo chat GPT che è una nuova entrata nel senso che la macchina oggi parla fino a prima la macchina agiva raccomandava decideva aveva già grande potere ma parlare crea una risposta emotiva enorme ecco perché da novembre scorso tutti prestiamo attenzione semplicemente perché la macchina oggi parla o simula ma alla fine parla bene se noi cominciamo a ricevere le notizie da un sistema come GPT si pone il problema della fiducia ci fidiamo sono corrette sono accurate sono neutre sono equanimi e poi c'è il fatto che incredibilmente da due anni le macchine sono in grado di produrre immagini di qualità realistica sintetiche avete visto tutti quella burla in cui il Papa indossava un piumino bianco la qualità era molto buona e quindi abbiamo un sistema che può conversare generare immagini generare dei video e rispondere alle domande come un oracolo e siamo nel primo anno di GPT ecco perché mi permetto di preoccuparvi un po' con rispetto immaginate l'aeroplano dei fratelli Wright nel 1903 quando cominciava a fare i primi voli fatto di legno di balsa di tela ecco quello era il primo anno oggi c'è EasyJet c'è Ryanair c'è la forza c'è l'aeronautica militare c'è la contraerea c'è un mondo che dipende dall'evoluzione di questa macchina ora siamo a GPT-4 fra vent'anni ci sarà GPT-24 o 34 cosa farà cosa saprà ecco dobbiamo cominciare adesso a comprendere cosa vuol dire vivere in un mondo condividere il mondo con macchine che hanno queste capacità temo anche in molti casi scusate ma sovrumane se dopo c'è l'opportunità parliamo di quale parte della macchina sta sviluppando capacità sovrumane perché è utile riflettere su queste cose in anticipo io sono convinto che riusciremo a trovare l'equilibrio ma in questo momento c'è una fase di turbolenza ed è naturale essere un po' ansiosi ma sarebbe sbagliato avere paura ma noi non vogliamo rimanere ansiosi questo è sicuro per questo è bella l'immagine che dicevi la clava sin dall'inizio il mezzo può essere usato in un modo o in un altro ora Nello ci ha spiegato in che senso tecnico come dire siamo in una fase di svolta ecco il titolo del meeting di quest'anno è l'esistenza è un'amicizia inesauribile cioè c'è qualcosa che connota propriamente l'esistenza degli umani allora io vi chiedo ma che cosa quale può essere un atteggiamento posto che nessuno di noi pensa di poter vivere in un altro mondo o pensa di voler vivere in un mondo prescindendo da queste opportunità cosa vuol dire salvare l'umanità cosa vuol dire essere responsabili e consapevoli nell'uso di questi di questi strumenti vivendo oggi sempre in otto minuti sempre sfida impossibile va bene prendiamo le sfide impossibili allora per rispondere in una maniera un po' tecnologica direi che abbiamo bisogno di una amicizia a 3D a 3D dimensioni ecco sì siamo sulla frontiera della tecnologia questa me la segno la prima forma di amicizia secondo me di cui abbiamo bisogno è un'amicizia con noi stessi una volta sul scheletro umano c'era scritto conosci te stesso era un po' la missione di tutto di tutto l'uomo di tutto quello che siamo fatti non foste per vivere come bruti c'è qualcosa che non ci basta dobbiamo andare oltre a un certo punto con l'inneo sopra lo scheletro umano è successo qualcosa è cambiata la frase nel sistema di classificazione di l'inneo derivato anche dal teatro anatomico da conosci te stesso è comparso il nome della specie più vicina a noi una scimmia omo e una caratterizzazione unica che ci distingueva dal resto delle scimmie sapiens ecco per quello che abbiamo sentito giocando un po' anche con le parole ora che abbiamo fatto la macchina sapiens non ci accontentiamo ad essere solo scimmie e allora la prima forma di passione per citare un altro titolo di un altro meeting di amicizia insomma mi trovavo pure qui a parlare di temi simili è una passione per l'umano la prima forma di amicizia di cui abbiamo bisogno è l'amicizia per la persona per quella categoria così fragile che è alla base di quello spazio che è l'occidente e che mai come oggi sembra essere diventata una categoria che per certi versi rimane vuota perché la macchina che parla come diceva Nello ecco ci mette di fronte a una cosa strana unica mai vista prima c'è una sfida linguistica giorno dopo giorno con una macchina che ogni giorno si umanizza sempre di più e un uomo che si macchinizza o comprende se stesso come una macchina ogni giorno di più se noi guardiamo come studiamo la libertà come studiamo le nostre emozioni chiamiamo le nostre emozioni algoritmi perché il babuino che sta sulla palma non decide perché fa il calcolo tra lui e il leone se prendere o meno la banana ma o ha paura o ha coraggio e allora ecco che anche l'emozione anche l'amore diventa una sorta di algoritmo biologico ecco la prima amicizia la forma di amicizia la prima dimensione di amicizia ce la dobbiamo avere con noi stessi un'amicizia con quello che riguarda l'uomo la persona e questo senso di insoddisfazione costante che ci spinge verso l'oltre la seconda forma di amicizia secondo me la seconda direzione è la stessa di queste sedie un'amicizia tra discipline tra il diritto costituzionale tra la fisica e le scienze informatiche tra la filosofia e la teologia bisogna tornare a fare universitas bisogna tornare a parlare tra noi e abbiamo visto fino adesso che parlare di intelligenza artificiale non è più parlare di una disciplina ma ci sono competenze tecniche competenze giuridiche competenze filosofiche sociologiche competenze psicologiche cosa questo sta producendo sulla mente dei nuovi nati essere esposti così tanto a macchine da click e non lo sappiamo faranno le loro scelte più importanti della loro vita come si sceglie un video su youtube non lo so ecco abbiamo bisogno di questa amicizia amicizia tra noi e poi questa diventa nella terza direzione un'amicizia che guarda al futuro un'amicizia tra generazioni ma che guarda anche al passato perché? è perché sostanzialmente le persone più fragili che ci sono oggi sono quelle ai due estremi della gaussiana i giovani e gli anziani ecco se noi pensiamo di sviluppare questi strumenti pensando solo a chi sta al centro a chi ce la fa a chi può avere una sorta di anticorpi per adeguarsi e gestire questa trasformazione noi stiamo creando degli esclusi noi stiamo creando delle periferie esistenziali all'interno delle quali diciamo che ci sono vite meno importanti di altre vite e allora questa amicizia intergenerazionale ci deve far guardare innanzitutto ai nostri ragazzi e deve diventare una passione educativa dobbiamo mettere al centro l'idea che quei giovani che guardiamo e abbiamo davanti saranno le donne e gli uomini di domani c'è un passo bellissimo di Antoine de Saint-Exupery in un libro che è meno conosciuto del famoso piccolo principe ma che si chiama Terra degli uomini dove lui racconta la sua esperienza di pilota e tornando in trena una sera dalla Francia verso la Germania vede sul treno tanti minatori polacchi che tornano verso casa con le loro famiglie e vede questi uomini piegati e contorti dalla fatica del lavoro in miniera che hanno con loro questi figli piccolissimi biondi bellissimi e riflette tra sé se sono come le rose di un giardino chi è che si prenderà cura di questi perché non vengano piegati dalla vita come i loro genitori ecco questa passione è la passione che ci deve animare è l'amicizia che dobbiamo avere perché altrimenti entriamo in un'ottica in cui consumiamo noi quello che ci serve e del domani non ci interessa e questa amicizia poi deve diventare una forma di diritto deve diventare delle certezze deve diventare una intenzione di voler addomesticare queste tecnologie a quella cosa così fragile ma così fondamentale che è la democrazia come europei sappiamo che nel novecento le pagine scritte col sangue dei conflitti che abbiamo attraversato ci hanno detto che la democrazia non è perfetta ma è l'unico modo che conosciamo per tenere sotto controllo cose che ci potrebbero sfuggire di mano e allora di fronte a tecnologie così potenti e poche pochissime aziende che in questo momento le producono perché sono nove le grandi regine di questo mondo ecco abbiamo bisogno di addomesticare queste aziende e questi strumenti al regime democratico e questo si fa solo se siamo tutti insieme se c'è un'amicizia tra noi grazie bello a te un po' la stessa domanda guarda sono contento di avere questa domanda perché avevo promesso una cosa che non voglio mantenere volevo parlarvi di come la macchina è diventata in alcuni casi sovrumana avevo delle storie non sono non sono importanti come questo se le volete le abbiamo scritte nei nostri libri le leggete nei libri questo è così importante perché alla fine quando mettiamo la macchina nella posizione in cui l'abbiamo messa di mediatore questa è l'ambizione della macchina di chi le fa di mediare le relazioni umane di decidere chi legge cosa di decidere chi incontra chi il potere è serio di definire le cose io vorrei fermarmi su alcune parole perché sono importanti quattro parole che il mediatore intelligente senza volere può ridefinire perché alla fine non è che stiamo parlando di gente in mala fede stiamo parlando di fenomeni che nessuno comprende comprendeva fino a poco fa sono cose nuove ma che possiamo ancora aggiustare uno è il fatto che stiamo adottando il punto di vista del meccanismo quando diciamo gli utenti l'utente è quello che usa invece di dire le persone solamente dicendo gli utenti abbiamo già preso il punto di vista della macchina che considera tutti voi tutti noi utenti e l'altra parola ovviamente è contenuto il prodotto della vostra arte compresa l'arte di questa bella mostra che andrò a vedere dopo su sulle parole come fa quello di essere un contenuto solamente uno che si occupa di contenitori può pensare che il vino è un contenuto giusto? ebbene con queste parole che stiamo ridefinendo una importante è amico perché su facebook abbiamo l'elenco degli amici ma l'amico su facebook è un contatto un contatto tra l'altro proposto dalla macchina immediato dalla macchina che non incontriamo mai è una cosa che si mostra per vantarsi quanti amici ho e gli amici che non sono su facebook è una parola che è stata presa e modificata e poi le famose comunità online tutti quelli che seguono un certo cantante vengono definiti la comunità ma la comunità non è quella cosa lì la comunità è questa cosa qui che ho visto quest'oggi e quindi gli amici i contenuti la comunità sono parole che vengono modificate il primo inizio per la nostra dignità è insistere a incontrarci di persona aiutarci fra di noi usare le parole nel senso originale e non accettare di usare le parole nel modo in cui la macchina ci vorrebbe la macchina poveri non voglio sembrare e vorrei spendere un minuto per condividere completamente quello che ha detto Paolo sono i più vulnerabili in questo momento che sono importanti perché c'è molta gente che avrà grandissimi benefici da questa rivoluzione e vogliamo che li abbiano ma c'è qualcuno che non può seguirla perché è troppo vecchio o non è capace o è un bambino che si fida cercamente dei genitori che gli danno l'iPad il bambino ha il diritto di fidarsi dei genitori e i genitori hanno il diritto di fidarsi della compagnia che ha fatto il prodotto sta a noi adesso fare le leggi capire come educare capire come sorvegliare purtroppo questa cosa è uscita prima che fossimo pronti ma adesso è uscita e ora tocca a noi dare ai genitori questa opportunità qua di potersi fidare e di poter dire ai figli fidatevi lo stesso per i vecchi ecco queste sono due cose importanti sull'amicizia che posso dire grazie io ringrazio davvero il professor cristianini e padre paolo benanti perché questa sera mi pare che ci abbiano aiutato almeno a me hanno aiutato tantissimo perché questo questo tipo di evoluzione in cui ci troviamo questa questa diffusione sempre più grande di questi strumenti tecnologici non può vederci ritirata non può vederci come posizione nel dire beh allora non li usiamo siamo da un'altra parte ne facciamo a meno proibiamo mi pare che invece sia emersa una posizione molto più responsabile che tira in ballo molto di più la nostra responsabilità e per questo li ringrazio perché perché noi abbiamo bisogno di questo non abbiamo soltanto bisogno di indicazioni di cartelli stradali di qua si può andare di qua no ma abbiamo bisogno di capire come star dentro e abbiamo visto che i due interlocutori che ci hanno aiutato questa sera sono profondamente dentro sanno ciò di cui stanno parlando sanno di che cosa di che cosa stanno parlando per cui il mio ringraziamento è duplice sia per la disponibilità che hanno avuto nel venire da noi ad aiutarci in questo passo sia per il modo con cui hanno collegato questa esperienza a quello che sta accadendo qui e per questo volevo solo dire un punto che mi è venuto in mente ascoltandoli che torno un po' a quella domanda da cui siamo un po' partiti ma c'è qualcosa di irriducibile nell'umano qualcosa che che in qualche maniera non può essere del tutto sostituito e pensando a quello che si vede qui quello che abbiamo visto a me verrebbe da dire che queste macchine le macchine nascono per trovare risposte soluzioni abbiamo ascoltato sono un tipo di intelligenza che produce risposte per questo io penso che la vera resistenza dell'umano sta nelle domande nella capacità di porre domande perché il cuore dell'uomo è un insieme di domande di esigenze di evidenze che la realtà stessa pone cioè perché di fronte ad una bella montagna mi venga in mente Dio o mi venga in mente che cosa può essere tutta la vita ecco questo passaggio questa questa possibilità questa apertura ecco questo è un aspetto che ho l'impressione noi dobbiamo difendere accanitamente e questo e questo accade dentro un rapporto di educazione di introduzione alla realtà che consenta a queste domande di non essere mai sopite così come per riprendere invece una parola di Paolo la libertà lui l'ha citata più volte queste macchine sono dicevi ossessionate dalla regolarità la libertà è il fattore imprevisto ecco cuore domande e libertà ho l'impressione che questo sia d'altronde a pensarci la nostra amicizia l'amicizia vera è quella che continuamente desta questa domanda e propone questa libertà perciò ancora ringrazio il professor Cristianini e padre Paolo Benanti per questo aiuto come sempre ricordo ricordo a tutti che non si chiude qui il nostro compito di aver ascoltato e aver aderito ma ricordo a tutti che il meeting si fonda sul contributo di ciascuno perciò quando vedete i punti di cuore rosso dona ora non li considerate parte dell'arredamento è un invito a prendere atto che il meeting si regge proprio su questa collaborazione grazie ancora buon meeting a tutti grazie a tutti la civiltà dell'amore fratelli e sorelle costruite senza stancarvi mai questa civiltà lavorate per questo pregate per questo soffrite per questo grazie a tutti grazie a tutti Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Quello che ti serve, quando ti serve Come il piano Easy Smart a Canon E0, anziché a 3,90 euro al mese Easy Bank, semplicemente banca Come il piano Easy Smart a Canon E0, anziché a 3,90 euro al mese Quello che ti serve, quando ti serve Nasce Easy Bank, la nuova banca digitale di Intesa San Paolo Easy Bank, semplicemente banca Come il piano Easy Bank, semplicemente banca Come il piano Easy Bank, semplicemente banca